Martedì 25 dicembre 2018. Felice Natale a tutti! Mancano sei giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del Capricorno. La Chiesa ricorda la nascita di Cristo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Natale, Natalina ed Eugenia. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Zampedri. Deriva da una modificazione dialettale del nome Giampietro. Zampedri è un cognome specifico del Trentino, ma abbiamo un probabile ceppo secondario anche in Lombardia, nel Bresciano. Accadde oggi. Il 25 dicembre del 336 d.C. viene documentata a Roma una celebrazione del Natale. È la più antica testimonianza finora conosciuta. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Marco Mengoni, nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988. La citazione da ricordare. Non desidero una rosa a Natale più di quanto possa desiderare la neve a maggio. D'ogni cosa mi piace che maturi. Quando è la sua stagione? William Shakespeare. Dice il saggio. Natale viene una volta all'anno. Chi non ne approfitta, tutto va a suo danno. Proverbio popolare. Un consiglio al giorno. Dopo l'autopranzo di Natale, offrite ai vostri ospiti uno zuccherino alla menta. Aiuterà la digestione alleggerendo lo stomaco.